Presentata la stagione e gli eventi del teatro Il Maggiore a Verbania, presentata in modo caratteristico con un'apertura dedicata al tango, proprio in riferimento al primo spettacolo di settembre, tango di periferia. Ma entriamo nel dettaglio in quella che è invece la stagione teatrale. Tantissimi bravi attori da Ettore Bassi, la Solarino, Scarpati, Nelsi Brilli, la Pession, davvero una stagione molto ricca. Lino Guanciale, abbiamo tutti, Zeno, abbiamo tutti grandi nomi, ma tutti grandi nomi ci tengo a dire di qualità, perché non basta il grande nome, ci vuole la qualità. Ettore Bassi, che è stato molto, mi ha fatto molto piacere la sua presenza oggi perché è protagonista dell'Attimo Fuggente, l'Attimo Fuggente ci tengo a dire debutterà qua. Poi c'è questa nuova rassegna, monologando, che mi sono un po' inventata quest'anno, di giornalisti e artisti, da Lella Costa a Celestini a Severnini, a Lamurgia, a Giole Dix. La lirica, Mirabella, grande richiesta, devo dire, perché mi sono arrivate delle mail dicendo tutti lo vogliamo ancora. A Ettore Bassi l'onore di aprire la stagione teatrale al Maggiore di Verbagna, l'Attimo Fuggente, 30 anni dell'uscita del film in Italia, riproponete questo testo, è un testo impegnato. Sì, è un testo bellissimo che stranamente non era ancora stato realizzato in teatro fuori dagli Stati Uniti. Noi siamo i primi ed è un grande orgoglio perché poi comunque è una storia bellissima, è una storia di formazione e io credo sia una storia che ancora oggi, in un certo senso purtroppo, è necessario raccontare ed è soprattutto necessario farla vedere ai ragazzi di oggi. Voi sarete qui a Verbagna anche per preparare proprio lo spettacolo, vedrete 20 giorni prima circa. Sì, veniamo qui ad allestirlo ed è bellissimo perché questo è un posto meraviglioso, un teatro stupendo, una location che sembra di essere in vacanza e quindi questo è anche il bello del teatro.